Buongiorno, divido sempre la mia presentazione con una velocissima introduzione, ovviamente gli scopi del progetto, metodi, risultati attesi e le conclusioni per quanto concerte il secondo anno. Mi preme subito dire che la medicina delle catastrofi o disaster medicine se uso il termine inglese è una branca della medicina e si occupa di analizzare le varie capacità di risposta a partire dalla pianificazione stessa alle maxi emergenze quali sia le calamità naturali che i disastri causati dall'uomo. Come definizione di disastro rifacendomi al Dipartimento di protezione civile italiano lo stesso lo definisce come un evento che travalica le varie possibilità di risposta delle strutture locali. Quindi abbiamo uno sbilanciamento di risposta tra gli enti tecnici e sanitari e ciò che viene richiesto è ovviamente quale riferimento alle risorse che sono spendibili in loco. Questo è un riferimento di due anni fa. Ci dice che vi sono quasi 20 milioni di abitanti nel mondo che hanno perso casa per varie motivazioni e le inserisco sempre nella definizione di disastro. Poi possono essere guerre piuttosto che epidemie ma il risultato è questo. Per quanto riguarda casa nostra noi siamo uno dei baluardi per esempio di un altro gravissimo problema per esempio per i migranti per accoglierli e anche per salvarli. Qui si occupa si parla di un'altra branca e si parla di eventi complessi a livello umanitario cioè comunque sia sempre di disastri. Se ne parla sempre e ci si dimentica subito a matrice pochi giorni fa già i mass media non ce ne parlano quasi più. E quindi è utile interrogarsi su come fare ricerca, come pubblicare e come considerare tutte le varie problematiche etiche che questo articolo ci mostra proprio per riuscire a dare comunque sia delle indicazioni e delle raccomandazioni anche comportamentali e di approccio che non è molto clinico ma è altro quando proprio si parla di disaster medicine. Per esempio il triage è tanto per dire il consenso informato per quanto riguarda la prima riga per arrivare per esempio alla ricerca stessa. Quando per esempio si parla di triage in pronto soccorso per una sola persona abbiamo più operatori all'incontrario cioè in un evento catastrofico invece c'è un operatore solo per tanti che deve effettuare delle delle scelte che non sono solo cliniche. Negli ultimi anni per esempio il comitì europeo per gli emergency physician ha iniziato a a stilare certi curriculum che fanno riferimento a questa branca non parlano di problematiche etiche. Si è iniziato negli ultimi anni comunque sia con una produzione. Perché io mi occupo di problematiche di bioetica e di ricerca perché è tutto ciò che non si vede che è sotto l'iceberg. Vediamo che la resa operativa, le scelte che vengono fatte sul sito dai vari operatori come nella clinica si rifanno sempre a delle raccomandazioni. Vi sono comunque molti punti critici e già solo per condurre i disegni di ricerca. Per esempio come faccio io a dare un questionario a persone che sono state traumatizzate per esempio per un terremoto e che risposte avrò. E quindi i risultati che posso ottenere se sono in realtà in linea o meno con i dettami generali della ricerca stessa. Di medicina dei disastri se ne parla sempre di più dal 1946 c'era un articolo, ora siamo a una media di 700. Si parla anche di ricerca, si parla ancora poco di etica. Vediamo i numeri in basso a destra. Quindi il mio scopo è quello proprio di studiare i principi basi della bioetica applicati a questa materia. Metodi oltre alla partecipazione a eventi esterni e interni, docenze varie in particolar modo con il centro di ricerca di Novara che si occupa proprio di medicina delle catastrofi, tra cui vedete alcune immagini. Ovviamente come è già stato nel mio primo anno andare avanti anche a leggere tutta la bibliografia di riferimento e poi ho iniziato a somministrare un primo questionario a studenti medici del Master europeo in Disaster Medicine. I risultati, vabbè, in primi sono state le affiliazioni a questi centri, quindi i due di Novara, siamo arrivati poi al CREC, varie pubblicazioni, la prima un intervento a Cagliari sulle problematiche di maxi emergenze intra ospedaliere. Mi sono occupato poi in Croazia di presentare invece i dilemmi etici all'interno delle operazioni di salvataggio della Marina Militare, in particolar modo perché è presente. Penso che sia anche molto utile per chi fa ricerca, esserci, di testare se effettivamente l'ambito che studia può essere pregnante o meno. Sta di fatto che un coste europeo che ha scritto proprio un anno fa che per esempio questa problematica è importantissima dal punto di vista etico. Un venti giorni fa poi a Leuven in Belgio per le ACME ho proposto questo primo progetto pilota di analizzare che cosa fanno gli studenti che studiano questa materia e se si chiedono se vi sono problematiche etiche, in particolar modo quando effettuano delle simulazioni multimediali. In particolar modo questo corso era con la International Federation of Medical Student a livello mondiale. Questo è il corso, questi sono gli studenti che giocano nelle varie maxi emergenze, è stato somministrato questo brevissimo questionario e abbiamo avuto già i primi risultati. Concludo quindi con la volontà di proseguire su questi studi. In particolar modo mi è stato utile e mi è utile frequentare Novara perché ovviamente ci ha permesso di avere dati per il mio progetto. Grazie. Grazie molto. Domande? Interventi? Grazie. Visto che si parlava di cordone. Grazie.